wow ok quindi adesso chiamando ehi di qua il genio è un lavoro per due geni ok questo è il lavoro di squadra oh vi ringrazio è importante che vi piacere Dario dai che dici ready sei uno che fa città guarda non sei l'unico che vi ha detto questa frase in questi giorni quindi ciao di nuovo no dai è bravo ehi ecco pennellino oh oh ragazzi siamo in guai ah ok ho detto ma si guardiamo cosa c'è guardiamo la tv adesso dove possiamo salire sul tetto qui no lì no di là si torna ragazzi per favore no questa è la zona vecchia qua devo andare ah di là grazie ogni tanto mi da qualche suggerimento qua l'ho chiuso quindi non serve qui questo non si apre televisione di prima ah forse qua si può salire qua si 2259 freddy ma stai dando i numeri o stai dando qualcos'altro io sto cercando di capire come salire tu mi dici cose che non capisco qua no qua non si sale devo capire dove si può salire devo andare là sopra se devo fare un altro giro diverso ah ok ma anche io sono vaccinata quindi anche per me sembra avere un significato è la novità del momento che sono vaccinata pure io allora ok ho visto si dai sali qua no suggerimento non me lo dà più interessante combinazione vediamo che riesco a fare dipende da vari fattori se ci puoi giocare o meno quadro elettrico ok si allora quadro elettrico sono qui ah è qui devo vedere le caratteristiche di quel computer per dirtelo ehi di qua eh vabbè qua vogliamo i vizi non ho capito allora to l'erba e poi cosa che voleva quello allora se è un i7 penso di sì bisogna vedere la ram e il processore 4 gira grazie secondo me sì qualcosa riesce a farlo girare dr4 sì 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 anch'io adoro il calore dei falò ma veramente ah con il falò sì non l'avevo visto stieriti un falò prendi cosa abbiamo detto prima di fare il ok sei incantato perfetto lì a posto no ho detto di fare il bravo freddy che cos'è perfetto ora eh ma quante pagine ci sono qua devo andare avanti per di qua eh ma se te lo ripeto già due volte vuol dire che qualcosina c'è stato eh che non era proprio il massimo quindi fai il bravo qua eccoli ragazzi di prima sono dappertutto ma porca miseramente allora lo so lo conosco quello che dico sempre a tutti portate pazienza è fatto così perfetto via ho preso questa non posso andare su abbiamo un nuovo genio provate a prendermi esatto provate a prendermi ti spaccherò quello stupido pennello in testa perché questi bambini mi devono insultare uffa e dai qualcuno lo vedrà pure ci sto facendo testi non ne vale la pena ok forse se ne vanno non mi prendete disegnare come non so disegnare probabilmente adesso ci sta soltanto non mi troverete infatti ecco qua sarà bellissimo bella la pioggia ok lì è tutto da completare qua penso che abbiamo finito per adesso mamma mia mi sono fatta male ero così presa dalla pittura che mi sono cascata giù non c'è più super pittura non ho super pittura quindi mi servono sono qui ragazzi venite grazie bisogno di super pittura un po' di pioggia non fa male vuole la pioggia sai che vuole sono io no ho sbagliato sono dimenticata che c'erano i ragazzini qua aspettate ragazzi che qua è un casino ok se ne è andato sai che vogliono allora uno vuole il fiorellino questo forse voleva ok dai raga basta con questa storia di chi è vivo e chi no dopo un po' fai nervosire la battuta è bella ma quando dura poco specialmente questo tipo di battute che non mi piacciono molto allora come ti senti perfetto adesso devo fare la no che cavolo trovo le stelline no sali 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 ti prego non buono no buono no ecco un'altra volta sali ti spaccherò quello stupido pennello in testa non puoi nasconderti ehi venite a prendermi ti spaccherò quello stupido pennello in testa si è meglio ehi sono qui ok figlio delle stelle ma i trofei comunque hanno dei bellissimi nomi quelli sono ancora quelli cattivi ops super fettura esaurita ok allora qua c'è un interruttore quindi c'è un generatore quindi devo farli arrivare qua dai solo collegate non è collegata la parete scendi perfetto non c'è mai abbastanza super fettura eh che ti devo dire allora ci sono i ragazzi come faccio a farli venire di qua grazie a 10 minuti stacchiamo la live grazie che ne dici si ma voi dovete venire di là geni questa parete l'ho sistemata si questa devo capire quali lampadine ho tralasciato esatto ecco come al solito porca visita ste lampadine allora ci mancano le lampadine di uno di questi palazzi qua ed ecco i miei grandi amici eh devo andare di là eh aspetta spero che devo andare di là no non è detto quelle eccole là ma per quanto mi riguarda possiamo farlo se organizzato bene e anche molto presto diamo un po' di colore a questa vecchia incendi allora sì facciamo dunque non so se ce li ho c'è qualcosa che non va eh questo è giusto funziona sì ah devo usare gli stessi disegni che bello non è questo quelle potrebbe essere mi sa che non ce l'ho questo devo copiare gli schizzi bene allora questo molto meglio sì e l'altro l'altro non ce l'ho mi sa devo usare gli schizzi giusti non ce l'abbiamo l'altro lo dobbiamo aspettare allora questo l'abbiamo fatto va bene ciao Freddy grazie per essere passato e per essere stato con noi fino adesso qua oh eccola la pagina grazie Paolo sta pagina non vuole essere presa oh non posso andare avanti se rovina la pagina dove è andata eccola io allora queste speravo di ritrovarlo sì infatti è meglio che non ci pensa troppo se è quello che ho capito ecco dov'eri questo che serve forse aiuta un po' ah c'è una pagina anche lì quindi eh può salire su qua come ci arrivo là qua aspetta ci sono delle lampadine non accese perfetto due di tre così forse riusciamo a chiamarli e attivare quella roba lì dovrebbe aiutarmi a prendere la pagina spero che casino eh e con questo la zona è a posto e ora? ok allora l'interruttore di prima che ci serviva però aspetta prima io vorrei andare su perché ho visto che c'è una una pagina sì no lo so so che quando Freddy è nervoso non si sa molto come prenderlo a volte non ti preoccupare qua sotto era madonna santa ogni volta mi dimentico se faccio certi salti allora loro erano di qua sì però a noi ci servono questa parte mi sembra perché c'era un interruttore qui forse qua mi serve ok adesso chiudiamo non ce l'abbiamo il genio elettrico vabbè allora la prossima volta facciamo il il genio elettrico per adesso vi lascio in questo punto ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto compagnia e quelli che guarderanno la la diretta ripeto per per l'ultima volta per oggi che purtroppo la webcam non la posso tenere perché questo gioco avendo anche il VR mi toglie in automatico la possibilità di usare la telecamera e quindi non si potrà vedere né la mia espressione né insomma quello che che provo dovete solo sentirlo con la voce grazie Paolo molto gentile quindi niente ci vediamo venerdì con lo stesso gioco e vi ringrazio ancora e vi auguro la buonanotte ciao ciao ciao